Al via la campagna informativa sull'estensione della raccolta differenziata si comincia dalla frazione Cavate venerdì alle ore 21 presso il centro ricreativo e si proseguirà il giorno seguente alle ore 17 nella frazione Torrone presso l'ex scuola elementare. Si tratta di una campagna coordinata da amministrazione comunale e la società cogesa servirà a informare la cittadinanza sul tema della differenziata in vista dell'estensione che avverrà entro il mese di giugno. Nelle settimane successive si proseguirà con incontri nelle altre frazioni e nelle zone che saranno interessate dall'estensione del servizio. Le informazioni verranno preventivamente comunicate per permettere a tutta la cittadinanza di partecipare, raccomanda l'assessore comunale e con delega all'ambiente Alessandra Vella. I 20.000 mastelli e 5.000 bidoni condominali da 120 litri sono arrivati lunedì e sono stati sistemati nell'ex caserma Cesare Battisti. Saranno distribuiti alla zona Peppa, alle frazioni e nel resto della città per un costo totale di 343.000 euro. Saranno 1.500 le nuove utenze, di cui 900 domestiche e 500 commerciali. Fra queste 1.000 faranno anche compostaggio domestico, cioè concime, coi loro orti e giardini. 700 alle frazioni, 300 in periferia.